Musica Visto che siamo qui dentro facciamo una bella panoramica del banco No, abbiamo alcune delle regioni che abbiamo noi Ok, guarda quanta buona roba Anche perché, allora approfittiamo di questo per dire che i premi della tombola potranno essere spesi in qualunque negozio di Altavilla Quindi in qualunque negozio che vogliate spendere qui o da qualche altra parte potete acquistare con l'equivalente della somma che avete vinto Potete acquistare tutte le specialità per il cenone di Natale a questo punto Allora, noi abbiamo fatto la panoramica del banco, però tu adesso ti compri delle cartelle della tombola Va bene? D'accordo D'accordo, va bene, allora appromesso Appromesso, vai dalla moglie, non voglio affattare Ok, grazie Allora, siamo arrivati al bar Altacauda della signora Alina Anche qua come vediamo c'è un addobbo bellissimo, tutto è scintillante Volevo anche qui ricordare alle persone che ci sono, che si nascondono Signora, perché eccola qua la signora Eccola qua la signora Allora, volevo ricordare, facciamo così Chiediamo un po' in giro nel frattempo che il nostro operatore ci fa vedere tutte le belle cose che ci sono qui al bar Altacauda Lei lo sa che c'è una televisione che si è aperta da poco qui ad Altavilla che si chiama Aljavilla? Sì, sì, l'ho vista, ho visto vecchie commedie che non avevo visto comunque Battenti anche Soprattutto Le sono familiari Penso proprio di sì, per chi mi conosce pensa di sì Ecco Si ricorda su che canale bisogna sintonizzare la televisione per vedere Aljavilla? Sul 24 Sul 24, come vedi sono tutti informatissimi Una cosa forse tutti ancora non la sanno, che il giorno 26 dicembre alle 3 e mezzo del pomeriggio, quindi subito dopo pranzo Ci sarà un modo per stare tutti quanti insieme, organizzare la televisione, insomma noi tutti quanti insieme abbiamo organizzato una tombola Per partecipare a questa tombola è facilissimo, basta comprare le cartelle in uno dei negozi del corso ma anche in altre zone E le cartelle controllate i numeri, ma se non li controllate voi li controlliamo noi al posto vostro e si possono vingere comunque dei bei premi e buoni acquisto in modo da poter trascorrere un Natale in allegria Come ti sembra l'idea? Ottima Ti sembra carina per... Per arrivare qualcosa d'altaviglio Per fare qualcosa a Natale che... Di diverso Non solo vedere Maceri in giro Non solo vedere Maceri in giro, vabbè insomma No, è una polemica però No, no, ma in ogni caso insomma nel frattempo che si riaggiusta un po' la situazione e quindi possiamo stare più tranquilli È una cosa diciamo tradizionale però nello stesso tempo che ci aiuta... Sì anche perché questa non sarà la tombola, sarà una tombola tradizionale perché estrarremo i numeri col classico panariello Però insomma ci saranno tanti ospiti, insomma cercheremo di fare una trasmissione carina per quello che possiamo fare noi Perché certo non siamo una televisione... L'importante è iniziare L'importante è iniziare col... Sembra col piede giusto Sembra col... Speriamo col piede giusto Allora vi ricordo che le cartelle le potete acquistare anche qui dalla signora Lina Che è dietro al banco e che per l'occasione mi sembra stasera più bella che mai Allora, visto che tu devi vendere le cartelle Mi sai dire quanto costa una cartella? Due euro E quando ci sarà la tombola? Che giorno? 26 dicembre alle 15 e 30 Preparatissima questa signora, devo dire la verità è stata brava Allora, mi raccomando anche qui comprate le cartelle al bar Altacauda, grazie Non solo le cartelle? Non solo le cartelle normale ma voi avete visto tutti le bellissime composizioni I bellissimi panettoni e dolci che ci sono qui Quindi sicuramente insieme al panettone la signora Lina vi venderà anche una cartella della tombola Grazie Venga, venga Ma lei è la titolare o è una cliente? È la titolare Ah, è la titolare Ma mi dica la verità, è così pieno di belle cose questo negozio che è venuta ad acquistare e qui fa finta di essere una cliente Hai visto? Ho fatto bene Mi vesto ufficialmente, mi date due minuti di tempo Ti vesti Non sono proprio una cliente No, devi essere una cliente anche perché noi siamo in giro per trovare i clienti Non facciamo cose preparate Allora, noi siamo venuti un po' per distribuire queste cartelle della tombola Non so se tu ne hai sentito parlare Ecco, Franco ti ne aveva parlato Dica, ti ricordi quando ci sarà questa tombola? Sì, ho studiato Quando ci sarà? Il 27 dicembre alle 15.30 Mentre laviamo i piatti Mentre laviamo i piatti C'è qualcuno che lavava i piatti Allora, non tutti sono fortunati come la signora Di Maio I piatti dice che glieli dava il marito No, facciamo il turno Ah, facciamo il turno Facciamo il turno Allora, noi lasciamo anche qui all'erboristeria La Mandragola le cartelle Lei sarà così gentile da venderci le cartelle E voi approfittate dell'occasione per venire Anche perché io qui sento tanti profumi Visto che il Natale ha anche profumi, ricordi, emozioni Quindi è anche bello accoppiare Oltre al profumo della pasta oppure dei dolci Oppure è anche bello accoppiare un profumo, un'essenza Non lo so, quale sarebbe un'essenza carina da accoppiare al Natale Secondo te, quella che ti ricorda di più il Natale? Qualcosa di speziato con la cannella, le spezie, i chiodi di garofano, qualcosa di... Allora potete approfittare, venite qui, fate un bel purpurì di queste cose E insieme accoppiate una bella cartella della tombola Il 26 dicembre alle 15.70 Ti ringrazio Grazie a voi e buon lavoro Grazie Allora siamo arrivati come avete ben visto nel mondo dei sogni Entriamo e andiamo a vedere se veramente qui si sogna o non si sogna Allora, guarda quanta bella gente Scappano tutti, ma forse noi portiamo... Scappano tutti, vabbè, per adesso ci sono io Ecco qui, ci togliamo il cappello in modo che siamo più comodi Scappa pure lei, vieni qui, fammi compagnia Vieni qua, fammi compagnia Fammi compagnia, nessuno mi vuole fare compagnia Vabbè, allora dobbiamo intervistare per forza la titolare Che si chiama? Palomba Maria Cristina Maria Cristina, Cristina, tutti ti conoscono come Cristina Allora, io so che questo negozio è aperto da poco Sì È aperto quasi in concomitanza con Algeavilla a quanto pare Perché più o meno le nostre trasmissioni sono iniziate quando tu hai aperto Quindi quale migliore occasione per festeggiare insieme questa cosa Tu l'apertura del tuo negozio e noi l'apertura della televisione Noi siamo in giro per distribuire le cartelle Non so se sai che ci sarà una tombola, se l'hai sentito Allora, te lo dico a te e anche a tutta questa bella gente che c'è qua Che non si vuole far vedere Ma fatemi vedere Fuori si vede che c'è uno spettacolo da guardare Comunque, il giorno 26, lo dico anche a voi, sentitemi Vi potete girare adesso Il giorno 26 alle 3 e mezzo del pomeriggio ci sarà una tombola su Algeavilla A cui potranno partecipare tutti quanti quelli che acquisteranno delle cartelline La cartella costa soltanto 2 euro Si può partecipare da casa perché noi estrarremo i numeri in diretta E ci saranno dei bei premi, buoni acquisto Insomma, bei premi da vincere Se ci può fare le feste in santa pace se si vince Quindi io adesso anche qua da Cristina Al mondo dei sogni a quando ho capito Visto che il mondo dei sogni ci può essere utile Tante volte vinciamo una bella somma Possiamo sognare meglio perché con i soldi si soglia meglio Quindi lascio anche le cartelle qui da Cristina Tutti quanti li potete venire ad acquistare qui a sole 2 euro Da World of Dreams, il mondo dei sogni Grazie Prego Allora, siamo arrivati all'agenzia di viaggi Esnatur Qui a Viale San Francesco Io veramente stavo scegliendo dove andare Sia ai tropici, ai caraibi Non so, sul Mar Rosso, nel Mediterraneo Perché, credetemi, con la vincita della tombola di Aljavilla Potrete fare una vacanza da sogno Anche perché Valentina, qui che è la titolare dell'agenzia Ha dei prezzi eccezionali E di conseguenza con la cospicua somma che vincerete Perché quante più cartelle si venderanno Tanto più la somma sarà alta Il buono acquisto, diciamo così Non la somma, ma il buono acquisto sarà alto Tante più cartelle venderemo, tanto più potete andare lontano Giusto? Quindi, con una piccola somma Li possiamo far arrivare dove, Valentina? Un weekend in Europa Una delle capitali Londra, Amsterdam, Vienna Oppure Mar Rosso Ci allontaniamo poi un pochino Poi ci vogliono più cartelle, insomma Quante più cartelle vendiamo, tanto più ci allontaniamo Però anche, anche una bella, insomma ce n'è per tutti i gusti Io voglio solo però assicurarmi che Valentina sa quando ci sarà questa tombola Non lo sa Valentina, te lo dico adesso La tombola ci sarà No, io ti lascio qui le cartelle Così le venderai anche a questi bei clienti Al tuo bel maritino Che si nasconde Non lo facciamo vedere, insomma Si nasconde, non c'è È sparito È sparito L'operatore non lo può trovare più Comunque, ti lascio qui le cartelle Così le vendi ai tuoi clienti Allora La tombola ci sarà il giorno 26 dicembre Io non so se qui sarà aperto o chiuso il giorno 26 Chiuso Quindi potrai stare tranquillamente a casa a guardare la tombola In ogni caso ci sarà alle 3 e mezzo Quindi anche chi ha da fare può prima intrattenersi e poi uscire Alle 3 e mezzo per un paio d'ore ci sarà questa tombola Vi voglio ricordare che la tombola non sarà soltanto estrazione di numeri Ma ci saranno ospiti, ci saranno servizi dalle vostre case Insomma un modo per passare il pomeriggio di Santo Stefano in allegria Quindi la tombola il 26 dicembre alle 15 e 30 E Valentina ci ha assicurato che resterà a casa A guardare la tombola E a partecipare Sicura che non vai a fare un viaggio? Lo rimando Lo rimanda per la tombola Grazie Allora siamo arrivati a Firenze Ossia dalla Fiorentina Per la famosa signora Fiorentina Che credo non c'è C'è Vieni qua rispondimi un po' C'è la mamma? Non c'è la mamma E' rimasto soltanto il signore E' rimasto due caffè al signore Allora visto che questo bar è così ben trafficato Sicuramente sarà un ottimo punto vendita per le nostre cartelle In ogni caso ricordiamo anche ai clienti che ci sono qui Che la tombola ci sarà il 26 alle ore 15 e 30 Però io voglio chiedere anche al proprietario di questa Anzi al maestro pasticciere Dico bene? Sì sì Siete voi il pasticciere ufficiale? Sì sì Perfetto La signora dove l'avete lasciata? Se ne è andata Se ne è andata per questa sera o per sempre? Per questa sera Ma chi ci è andato meglio? Lei o voi che se ne è andata per questa sera soltanto? Sempre lei Ah sempre lei va bene Due caffè al signore Nel frattempo io non voglio disturbare ulteriormente Vi voglio soltanto No vi ringrazio Vi ringrazio Ci dovete offrire soltanto un po' della vostra disponibilità Perché io anche qui lascio le cartelle Per la tombola che si terrà il 26 dicembre Va bene? Grazie Allora come potete vedere siamo davanti all'alimentari Rosato Entriamo dentro e vediamo chi troviamo Io vedo da lontano Vedo da molto lontano Oltre alla signora Rosato Anche il signor Rosato Che intento alla lettura Una volta tanto Diciamo così Sono io ad avere il microfono E lui ad ascoltare quello che io dico Quindi se per favore mi può degnare di una piccola intervista Io la ringrazio Lei è sua moglie Innanzitutto siamo contenti di stare qui Anche perché questo negozio è addobbato alla perfezione Anche se il titolare credo che sia il figlio angelo che non c'è Quindi non so se questo può essere o non può essere un buon segno In ogni caso il signor Rosato Che intento nei suoi pensieri Può venire una Si spoglia e ci viene Ci viene a dare una mano Anzi possiamo fare così caro Pietro Visto che io sono un po' stanca Di girare per tutte queste interviste Una volta tanto Puoi fare tu da solo? Io ti cedo il microfono Non me l'ha messo mai Come dire Imposto nessuno sta cosa Io ti chiedo per favore Mi puoi fare uno spot della Tombola Anche perché essendo tu il presidente della Proloco Quale persona più adatta per sponsorizzare un po' quelle che sono tutte le manifestazioni di Altavilla Ma poi anche questa iniziativa della Tombola di Aljavilla Facciamo così Che cosa ne pensi? Ma intanto che cosa penso io di Aljavilla? Come cittadino e come presidente? Ma tu sai benissimo che io sono stato uno di quelli che ha messo sulla prima radio libera d'Altavilla Per cui erano tempi pioneristici per quanto riguarda l'informazione radiofonica All'epoca mi ricordo in provincia di Avellino esistevano due o tre emittenti Che era una a Spazio Verde di Ospedaletto e un'altra di Avellino Radio Alfa mi pare Poi ci eravamo noi Per cui figurati se queste cose non mi fanno piacere Anche perché so che poi dietro al Javilla ci sono persone che bazzicavano già ai tempi di Radio 6 e di Radio Altavilla Per cui gira e rigira insomma Però devo dire la verità Loro hanno tanto insistito Infatti ci sono io al posto tuo Hanno tanto insistito affinché Ci fossero nuove leve Dietro questa cosa Infatti approfitto per l'occasione Poi anche perché tu hai due belle leve pure Anche se non ti fai vedere adesso Però insomma Approfitto dell'occasione Proprio per dire questo Che la tombola del 26 dicembre Alle 15.30 Lo ricordo per non farvelo dimenticare Sarà presentata Sarà presentata da dei ragazzi Ci sarò io a dare una mano Ma ci saranno anche altri due ragazzi Che fanno parte della compagnia teatrale Di quelli che è il teatro Sandro Severino e Vittorio Vanni Quindi diciamo l'intento è quello di forgiare Delle nuove leve Affinché questo entusiasmo Che era della tua generazione Possa essere tramandato Alle nuove generazioni Vabbè E tu stai in mezzo Vabbè ma io sono sempre un po' Il prezzemolo Il prezzemolo in ogni minestra Diciamo così Fin quando la gente non si scoccia Io poi Anzi approfittiamo anche di questa occasione Per chiedere a chiunque Abbia il piacere Di fare quello che sto facendo io In questo momento Non si può fare insomma L'importante è essere al di sotto dei 40 anni Diciamo così Proprio perché C'è questa Possiamo buttare Proprio perché c'è questa esigenza Di avere giovani E non le persone che da sempre lo hanno fatto Quindi tutti quelli che vogliono Intraprendere questa carriera Che si ferma al Ponte dei Santi Diciamo così Possono sicuramente rivolgersi Alla sede Alla redazione di Algeville A Franco Cavaliere Che sicuramente Vi saprà dare spiegazioni in merito Ti ringrazio per dell'ospitalità Qui nel negozio E ci rivedremo sicuramente In una prossima occasione A me non mi fai la domanda A che ora si fa la tombola Ma io so che tu sei preparato Allora E te la faccio anche a te Allora A che giorno ci sarà la tombola D'Altavilla? E che giorno Vedi? Puoi mi chiedere domande Non sa rispondere Allora Che giorno ci sarà? Allora Ci sarà Il giorno 15 Alle ore 27 Sbagliato come tutti hanno sbagliato fino a questo momento Vabbè facciamo parla alla signora che la vedo più preparata Marco lo sai tu a che ora ci sarà Vieni qui Vieni qui Vedi? Ho ragione io che ci vogliono le nuove generazioni Allora l'ultimo spot ce lo fa Marco Rosato Che è il futuro della famiglia Rosato Vieni qua Allora la tombola ci sarà? Il 26 Alle? 15 e 30 Ok A posto Su E che rosaggi? Alla Giavilla Alla Giavilla Alla Giavilla Grazie alla famiglia Rosato Volano prego prego entrate No no adesso sei entrato nell'inquadratura e ci devi rimanere fino alla fine Vieni vieni Forza forza tutti qua Ormai ormai sei stato ripreso non è che puoi sfuggire Vieni qua Hai fatto scappare pure il tuo figlio Allora siamo qui da mille cose conveniente Senza mille Cose convenienti Solo cose convenienti Una volta era mille Solo cose convenienti Una volta era mille quando c'era la ben amata lira La ben amata lira Adesso purtroppo non c'è più e quindi solo cose convenienti Tra le tante cose convenienti allora dovete vendere anche le cartelle della tombola di Algiavilla Certamente Perché è stata un'ottima iniziativa e quindi io quando l'ho visto in televisione a gio pomeriggio E niente è una cosa che mi è piaciuta veramente Mi fa piacere anche perché la cartella di Algiavilla forse è la cosa più conveniente che poi avrete qua dentro Immaginate una cartella che costa solo 2 euro Vi può far vincere una somma che va al di sopra dei 100 euro Un buon acquisto al di sopra dei 100 euro mi sembra una cosa conveniente Certamente E quindi si addice perfettamente Anzi voi se poi si vince Visto che i buoni acquisti possono essere spesi in qualunque negozio di quelli che ci ha dato l'opportunità Ha collaborato con noi per la vendita delle cartelle Se tante volte vince qualcuno che ha comprato la cartella qua Insomma qualcosa qui si deve per forza spendere Almeno per riconoscenza Appunto come il bancolotto che prende la percentuale Diciamo la percentuale non la prendiamo Però ci fa piacere se il cliente resta qua da noi Ok Allora noi ringraziamo il signore e la signora che resta in incognito diciamo così Perché sono stati gentilissimi E anche qui da cose convenienti lasciamo le cartelle E li ringraziamo per essere nostri complici Benissimo grazie a voi Grazie a voi Allora siamo arrivati all'interno di un altro negozio Un bel sale e tabacchi Dove ci sono dei ragazzi Io voglio sapere Io Io porto sfortuna mi hai detto Guarda io porto la fortuna Anzi proprio il contrario Magari Allora Io porto fortuna perché io sto distribuendo le cartelle della tombola di Aljavilla E quindi visto che la tombola è sicuramente la cosa più fortunata Vincere la tombola di Aljavilla è la cosa più fortunata che ti può capitare in questi giorni Io porto fortuna Ecco La vinceremo Vieni qua Vieni qua Tu sei il titolare Voglio sapere Il titolare è mia madre Comunque sei uno dei di Giovanni Uno dei di Giovanni Guardaci lì perché se no mi fai guardare solo la mia bella faccia e la tua no Allora io voglio soltanto sapere se si è sparsa la voce di questa tombola Perché io sono due giorni che sto ripetendo la stessa cosa Molte persone guarda ci stanno proprio distruggendo di domande La tombola di Aljavilla Cioè Luigi tutte le mattine come si alza me lo viene a chiedere Allora tu sicuramente sai quando ci sarà No il giorno preciso non lo so Allora io ti do un suggerimento Il giorno di Santo Stefano ossia 26 A che ora? A che ora? 15 e 30 Il tuo amico è molto più preparato di te a quando fare Allora sicuramente sarà uno dei primi ad acquistare le cartelle Che io adesso Mi lascerai Ti lascerò Perfetto Perfetto Allora io ti lascio le cartelle della tombola Mi lascio molte però Molte Molte Anzi mi dai l'occasione per dire una cosa importante Quante più Tra tutti Diciamo lanciamo una piccola sfida Ma una sfida simpatica Tra tutti i commercianti che abbiamo visitato in questi giorni Quello che venderà più cartelle Il commerciante che riuscirà a vendere più cartelle della tombola Avrà un piccolo regalo da Aljavilla Va bene? Quindi impegnati Sì sì ne venderemo tantissime Va bene allora ragazzi Visto che siete in tanti Mi potete dire qual è la migliore televisione del momento? Aljavilla Provi Allora siamo arrivati al bar Borgovecchio Nel frattempo che il gentile signore mi fa un caffè Così Due caffè uno anche al signore Io poi Io sto guardando che loro Nel frattempo allora che lui mi fa il caffè Io mi sto guardando un po' intorno Innanzitutto ho visto che loro stanno sintonizzati perennemente su Aljavilla E questa è una cosa ottima Devo dire la verità Quanto più state sintonizzati più la gente crescerà in questo locale Allora innanzitutto complimenti perché il locale è addobbato in modo molto carino Poi voglio chiedere a questo signore che mi sembra che appartenga alla famiglia dei Cavaliere Sì 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 Ecco sì Allora tu sicuramente meglio di me mi saprai dire Perché hai più rapporti, sicuramente capisci più di me di televisione e di microfoni Si spera Si spera Non è così sicuramente Non è così ti stai facendo una cattiva pubblicità devo dire la verità Non è così Allora Però saprai che ci sarà una tombola, lo sai questo? Sì Sai quando ci sarà? 26 26, 24, 25 pensano Non confondermi il pubblico che è già abbastanza confuso Perché se ne sono Costa 2 euro I biglietti stanno in vendita Dappertutto anche qua Allora noi siamo qui apposta per lasciare i biglietti alla signora Vieni un poco qui Vieni qua Lei sta sempre qua scusami allora lo diciamo Allora quando arriverete qui al Borgo Vecchio troverete come ti chiami? Guerrero Maria Maria Che vi farà un buon caffè E poi vi venderà una cartella della tombola di Algevilla Il giorno 26 voi siete aperti o siete chiusi? Aperti 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 Quindi voi alle 3 e mezzo Visto che qui Algevilla si prende benissimo Alle 3 e mezzo potete comprare la cartella E tranquillamente vi potete venire a sedere qui O al piano di sopra che è ancora più carino E c'è uno schermo ancora più grande Potete venire a sedere al tavolo Consumare il caffè dopo aver mangiato a casa vostra abbondantemente E giocate alla tombola in diretta qui dal Borgo Vecchio Ho detto bene? Sì però non sono le cartelle No consumano e comprano le cartelle Va bene? Ok vi ringrazio per essere stati così gentili Allora è quasi addirittura d'arrivo la nostra passeggiata Perché siamo ritornati al corso Garibaldi Dove siamo arrivati dal simpaticissimo Claudio Che stasera Mi sembra No ma è famoso il fatto che Claudio è uno dei baristi più simpatici Più di battuta Diciamo così non simpatici Di battuta Però stasera non lo vedo troppo in vena O mi sbaglio Stai fuori vena? Stai fuori vena? Stai fuori vena? Non possiamo Perché stai fuori vena? Non lo so mi faccio l'invermire Non lo so Avevo ragione Allora vediamo un po' se sei preparato almeno Vediamo anche i signori visto che stanno qui mi fanno compagnia Anzi lui con la sigaretta mi fa anche un po' gli effetti speciali Se conosci innanzitutto se sai che ad Altavilla c'è il cellulare che squilla Allora se ad Altavilla c'è una televisione lo sai questo? Come si chiama? Penso al Giavillo non lo so sicuro Sai che è stata programmata per queste feste una tombola Michela ti ricordi in che giorno ci sarà questa tombola? No no Allora te lo dico io Ci sarà il 26 il giorno di Santo Stefano Voi siete aperti o chiusi? Aperti Aperti Allora io tu non potrai giocare direttamente Anche se la tombola ci sarà alle 3 e mezzo Alle 3 e mezzo chi c'è di turno? Tu o il tuo caro fratellino? Ah Dario Allora Dario resterà qui e tu invece a casa giochi a tombola Allora io ti lascio le cartelle così come ho fatto in tanti altri negozi così Ci date una mano a vendere queste cartelle che sono poi un contributo per noi della televisione Anche se lo ripeto sempre i premi, i soldi riascimolati con le cartelle verranno comunque restituiti in buoni acquisto Per prendere delle buone cose in tutti i negozi che hanno collaborato con noi Al corso e anche abbiamo girato un po' tutte le zone Quindi Terno, Quaderra, Quidine e Tombola verranno pagati per questa tombola Lambo no perché ne siamo in tanti e quindi si rischierebbe di avere troppi vincitori Non so che cosa dirti, ti sembra una buona idea? Sì, è un'ottima idea, è buona Sì, sicuramente sì Allora, le comprerai queste cartelle? Le devo comprare io? Ma tu come commerciante le vendi, quelle che vendi, vendi Come privato cittadino le comprerai? Sì, le comprerò E farai giocare anche tua figlia a tombola? Allora, hai tanto da dire? Sì, sì, perché? Eh vabbè, allora abbiamo pochissimo tempo però per quel poco che abbiamo mi puoi dire quello che hai da dire E che devo dire? Adesso hai detto che avevi tanto da dire Che devo dire? Che devo dire? Eh vabbè, allora, visto che lui è simpaticissimo e lo sappiamo Questo è un buon bar di simpatici Allora, tutti questi simpatici spero che saranno così simpatici da comprare una cartella Oh, mi auguri, che cartella? Eh, allora non mi hai sentito No, ma si è allontanato col cellulare Ah, si è allontanato col cellulare Allora, facciamo così, non te lo ripeto perché altrimenti a casa mi uccidono Tu ti sintonizzi stasera su Altaville per i giorni seguenti e sentirai questi spot che abbiamo girato un po' in tutti i negozi E capirai, durante tutta la giornata ci sono gli spot che vanno Stasera, penso, se ci ritira, guarda, adesso sono le 8, credo, è qualcosa, in tempo reale Le 8 e 5 I potenti mezzi di Altavilla, non so se riusciranno a fare in modo che intorno alle 21 ci sarà la trasmissione di questi spot Non ha sentito Eh beh, sentirai stasera Adesso te lo spiega Ok, grazie 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 come potete ben vedere ha un addobbo e anche la musica è altissima, allora chi regola questa musica innanzitutto se la può abbassare un po' perché altrimenti non ci sentiamo noi. Ah guarda, sembra fatto apposta ma anche loro sono collegati su Algevilla, quindi a quanto pare questa è la televisione del momento, siamo più seguiti della vita in diretta, quasi quasi io ti direi c'è posta per te Sabrina, se tu ti puoi almeno avvicinare da quest'altro lato in modo che possono, anche perché in questi negozi ho trovato tutti signori, tutti gestori un po' anzianotti insomma, la prima volta che trovo una bella ragazza dietro al banco mi sembra che caro cameraman ne vale la pena di riprenderla o no, oltre che a riprendere il locale. Allora, visto che voi stavate guardando la televisione, spero che siate informati su questa tombola che ci sarà. Dillo vicino al microfono perché se no non mi credono. Sì, ti volevo chiedere biglietti perché me ne hanno chiesti. Ah ecco, vedi? Purtroppo siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, anzi approfitto dell'occasione per scusarci con tutti i negozianti da cui non siamo potuti andare, ma purtroppo ci sono stati diversi problemi, siamo un po' in ritardo e quindi la macchina televisiva si è mossa con un po' di ritardo, ma stiamo recuperando. Allora, io anche qui, visto che Sabrina me l'ha chiesti così gentilmente, lascerò le cartelle. Ti ricordi quando ci sarà questa tombola? Il 26? Sì. Ti ricordi a che ora? No. Alle 3? Alle 3 e mezza. Alle 3 e mezza. Tu sarai qui alle 3 e mezza. Chi ci sarà? Tu o tua sorella? Io e mia sorella, tutte e due. Quindi però la televisione ce l'avete, lo spazio per poggiare le cartelle ce le avete, quindi le potete anche comprare e ve le controllate. Ah, le avete comprate da qualcun altro? Vedi? Allora, oggi le lascio qui così tutti quanti le potranno comprare anche qui al Bar Divina Commedia, anche perché Sabrina vi potrà fare sicuramente un dolce sorriso. Sorriso. Grazie a te. Buonasera da Aljavilla Urban TV. Abbiamo ripreso la nostra passeggiata lungo le strade del paese e ci siamo soffermati, guarda caso, in un posto a me molto caro, l'enoteca per bacco della signora di Troia, Anna Maria. La signora Anna Maria vuole fare un augurio a tutti i nostri telespettatori. Un augurio sincero di buon Natale e felice anno nuovo all'aspettabile clientele agli amici. Mi raccomando venite ad assaggiare questi ottimi vini perché poi per il pranzo si si addicono queste cose. Riprendiamo un po' il discorso della ormai famosa tombola che avverrà sui nostri studi nel locale di Aljavilla. Il giorno ce lo dice qui la signora Anna Maria. Il 26 dicembre. Preparatissima. Scommetto che sta anche l'ora. Alle 15 e 30. Bravissima, non possiamo aggiungere altro. Io direi che se la signora Anna Maria è d'accordo gli lasciamo poi qualche biglietto da vendere. Certamente. La signora è d'accordo. Abbiamo qui anche per due di cronaca il figlio della signora Anna Maria, un carissimo amico Carmine. Vuoi fare un saluto in telecamera? Saluto a tutti i miei amici. Fai anche un augurio di Natale, vai. Auguri a tutti i miei amici. Carmine mi prometti che darei una mano a mamma a vendere i biglietti per la tombola? Lo compro anch'io un biglietto per partecipare. Ti ringrazio, è sempre squisito. Mi raccomando, Enoteca Verbacco, Anna Maria di Troia, venite a fare una visita perché mi garantisco che ne vale davvero la pena già dal profumo. Grazie. Buonasera, questa volta provate ad indovinare dove sono. Vi dirò una famosa frase che ho scritto qualche anno fa e questo vi farà intuire in quale negozio adesso stiamo girando. Una volta scrissi, un diamante è per sempre. No, è vero, non l'ho scritto io, però questo diamante è per sempre. Vi fa capire che stiamo nella famosissima gioielleria TD Gioielli e qui accanto a me c'è la bellissima signora Lorella. Grazie per il bellissimo, però io a questo punto ti dico che il gioiello è l'unico peccato che ti manda in paradiso. A pochi intenti tor, buone parole. Bellissimo, questo mi ha spiazzato completamente. Allora, signora Lorella, lei sa che ora ad Altavilla c'è una televisione. Come si chiama? Domanda facilissima. Algeasira, no, Algeavilla. Algeavilla, esatto. Sa anche che nel frattempo si cercherà di creare un vero e proprio palinsesto. Ci saranno delle prove tecniche, tra virgolette, con una bellissima trasmissione dove ci sarà un gioco a premi. Qual è questo gioco? Per caso è la Tombolissima. Bravissima anche su questo. Se mi risponde esattamente il giorno e l'ora in cui si svolgerà questa Tombolissima, lei ha vinto un bel diamante. Grazie ancora per il bel diamante. Mi auguro che lo prendiate da me, insomma, non andate altrove. Allora, 26 dicembre alle 15.30. La signora Lorella è stata spettacolare, ha detto tutto. Noi nell'augurargli un buon Natale, gli ricordiamo questa Tombola il 26 dicembre alle 15.30. e mi raccomando, seguiteci in massa e se potete venite a visitare questo bellissimo negozio di gioielli al Corso Caribaldi. Grazie. Arrivederci. Continuo la mia passeggiata lungo il Corso Caribaldi e sono arrivato in un luogo di cultura, tra virgolette diciamo, la cartolibreria fenice dei fratelli Andreotti. Siamo qui con uno dei ragazzi gestori della cartolibreria, non so se è Alessandro Francesco, non chiedetemelo. Allora Alessandro, come tu ben saprai, ci sarà una tombola, la tombolissima e se ci dirai il giorno e l'ora esatta in cui ci sarà questa tombolissima, noi ne saremo lieti e se magari con due parole inviti tutti a guardare questa tombola su Alciavilla. La tombola è il 26 dicembre alle ore 15, giusto? 15 e 30? 15 e 30, vabbè.